Noi abbiamo un sogno, quello di portare la nostra Rovigo nel futuro attraverso l'arte e la multimedialità. Da quest'anno ti daremo l'opportunità di esserne parte attiva per realizzarlo. Grazie al tuo talento, risorse ed energie potrai cambiare la tua città. Insieme ad altri giovani potrai metterti in gioco e potenziare i tuoi talenti insieme ad un gruppo di professionisti che ti seguiranno in questo viaggio creativo. Entra a far parte della Fabbrica dello Zucchero e partecipa alla programmazione del Festival Tensioni. Per rendere il tuo sogno reale ti chiediamo un impegno settimanale e potrai in cambio partecipare alle attività di Fabbrica dello Zucchero. Entrare nell'organizzazione di eventi culturali e l'avanguardia nella tua città e conoscere da vicino gli artisti. Se hai tra i 18 e 24 anni sei il candidato perfetto per la Fabbrica dello Zucchero. Cosa aspetti? Inviaci la tua candidatura entro il 20 giugno.